ecco il partito Fani, grande prestazione, sta attaccando, sta attaccando, lo ci regge bene bravo un po' arretrato lì ma si è ripreso subito, la minestra di Fani ha fatto effetto vedete, questo è il tacco, saluta, saluta tacco 2017, ciao ciao tacco, merce tacco, tacco aspetta quello di prima è un vantaggio di qualche decca, ciao tacco